La campagna vaccinale ha un capitolo un po' più delicato, però che è quello che sta continuando anche con grande attenzione, anche in iniziative particolari, è quello dei più piccoli, della fascia 5-11 anni, che è l'ultimo capitolo che è stato aperto. È così, è il capitolo più onestamente faticoso, non meno importante, è faticoso perché qui la percentuale di copertura è decisamente più piccola, più bassa, è in linea con quello che accade a livello nazionale, perché abbiamo un 34,6% per quanto riguarda le prime dosi e siamo a un 28-29% per quanto riguarda le seconde dosi, perché stanno procedendo chiaramente. E qui chiaramente ci piacerebbe avere un tasso di copertura vaccinale più ampio, capiamo, qui c'è un'interlocuzione e un convincimento che deve essere proprio anche dei genitori, insomma, quindi è chiaro, è molto diverso rispetto a quello che è accaduto nella fascia invece dei 12-18, che ha visto una copertura dove molti ragazzini erano proprio loro stessi. Sì, a manifestare il desiderio di volersi vaccinare. Però vediamo, insomma, c'è ancora, non è che i punti vaccinali chiudono e quindi questa campagna vaccinale è ancora aperta e continuerà e continua ancora. C'è anche da dire che comunque negli ultimi due mesi, soprattutto gennaio, da fine dicembre, insomma fino ai primi di febbraio, c'è stato un numero altissimo di bambini, proprio di quella fascia che sarebbe stata vaccinabile, che si sono contagiati. Quindi magari questi sono bambini che potrebbero effettuare una seconda dose qualora i tempi siano maturi. Esatto, siano maturi, insomma, quindi proprio a maggior ragione la campagna resta aperta per loro. Ma infatti, guardi, considerando i positivi, cioè i bambini che hanno, si sono contagiati, che quindi erano positivi al Covid, se noi calcolassimo anche queste dosi, che sono considerate come prime dosi, insomma, si sale come copertura al 65% come prime dosi. Però è chiaro che quello che diventa importante è chiudere il ciclo vaccinale. Quindi noi preferiamo scorporarlo perché è decisamente più corretto, perché la seconda dose deve essere frutto e sarà frutto, qualora venisse, di una volontarietà da parte dei genitori, insomma, che noi ci aspichiamo ovviamente.